ah è arrivata alla fine la battuta che ha fatto oh sono stato forse il primo o uno dei primi sulla piattaforma a dirla allora io non mi tiro indietro guarda io non rimangio le mie parole per me la battuta che ha fatto è carinissima dai fa morire dalle risate mi ha fatto veramente ridere dai ha fatto ridere tutti in casa mia tutti quanti andavamo lì a vedere i tg a sentire un po le opinioni a caldo di certi personaggi e io non vedevo l'ora di sentire sapere conte è stato molto diplomatico però ha detto vedremo se ce la denunciare vabbè vedremo se studieremo il caso studi il caso studi il caso cosa sono casi privati poi che adesso la boccia stia esagerando è un altro paio di maniche cioè cosa sta dicendo la boccia ricordiamolo apro e chiudo parentesi che vuole addirittura andare incontro a meloni e san giuliano denunciando la procura della repubblica perché per diffamazione dice le cose non vere dicono ma non è vero non è vero quello che dicono anzi la nomina l'ha tolta la stessa meloni lei è una bugiarda minchia minchia ragazzi comunque detto quello per chiusare la parentesi la cia ieri ha fatto questa battuta micidiale cioè ma più che un governo questo mi sembra mi sembra una serie di beautiful mi sembra ma che rigge in altra persona io riconosco solo rigge di beautiful è cioè rigge in altra ha detto ma che è sta roba è insultato san giuliano è entrata nei meriti privati deve chiedere scusa si deve vergognare ma che scandalo è stata terribile è stata tremenda senza dignità e senza pudore dai 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 ha fatto una battuta molto carina molto molto carina tra l'altro adesso parlando d'altro perché ormai ho detto quello che dovevo dire ripeto ragazzi non è che ogni due battute ogni virgola bisogna andare a denunciare qualcuno di fratelli d'italia addirittura inchiesta parlamentare sulle parole della scienma non rompete le fave dai per favore fatevi fare pecorino so boni a voglia quindi che sta succedendo ora la boccia lo sto vedendo nel mio canale premetto questo va là lo sto vedendo nel mio canale nel mio canale io sto vedendo che la la sta storia un po sta già stancando ok quindi basta se ne parli una volta ci sono tante novità però più che altro dai non comincia a essere veramente poco credibile e mi fa piacere questa cosa sapete perché perché si passa prima ad altri argomenti secondo perché non si dà abbastanza credibilità che sia san giuliano meloni a questa boccia ma soprattutto vedi commenti alla boccia anche da quelli di sinistra e io non sono pro meloni protesta sono tra il centrista ma vedo che nel mio canale ci sono molti di destra soprattutto nei sondaggi adesso la boccia addirittura dichiara che avrebbe altri testi altre carte che non ha ancora mostrato qui io continuo a ribadire che secondo me non ha fatto tutto da sola questa qua sotto banco con alcuni o qualcuno della sinistra si è accordato accordata non è possibile che abbia fatto tutto da sola avanti non voglio fare complottista non lo sono ma credo che un po la meloni abbia ragione voi che ne pensate